Anziani, donne e bambini, intere famiglie, per una volta una partita di calcio è quello che dovrebbe essere sempre, un momento di puro divertimento e di spettacolo. Italia-Spagna complice il blasone degli avversari degli azzurri, l'area di vacanza e il fatto che si giochi in una città del sud in cui il grande calcio non è pane quotidiano, nonostante la fresca Serie A del Bari, si è trasformata in un coloratissimo derby fra gli attuali e gli ex campioni del mondo. Prima dell'incontro intorno allo stadio San Nicola, tanta voglia di scherzare e godersi la partita. Per vedere l'Italia sono arrivati un po' da tutto, il sud, pochi gli spagnoli arrivati appena prima del fischio d'inizio. Chi vince? Noi, sempre noi. In Italia, in Italia, in Italia, vinciamo sempre noi. No, ho paura, le furie rosse, sono il fatto loro, però vediamo cosa faremo. Chi vince, chi vince? L'Italia. Quanto? 2-1. E chi segna? Segnano Del Piero e Matri. E Del Piero non c'è nemmeno Matri? Non c'è l'amici, ma c'è questo, ma l'hotel è l'altro. E Cassano, niente, che dici? Cassano, non farei, sono i compagnoli. Non farei su un'elte Cassani, forza! Forza Italia! Quanto finisce stasera? 2-0 per l'Italia. Chi segna? Pirlo. Pirlo e Rossi. Da dove venite? Avellino, il numero di Francia. Vinciamo sicuramente. Chi segna? Chi segna? Cassano. Dove viene? Taranto. Qual è la maglietta che vende di più? Cassano vogliono. E poi? Eh, Pirlo. Comunque andrà a finire, sarà una grande festa di sport. Chi segna? Chi segna? Chi segna? Chi segna? Chi segna?